Questa è una mostra missionaria che noi apparecchiamo, diciamo così, due volte all'anno. Il mese di ottobre, che è appunto il mese missionario, e il mese mariano di maggio, a favore delle missioni che abbiamo, Capuccine, che abbiamo nel mondo. In particolare due missioni dell'Africa, in Costa d'Avorio e nel Camerun. Però abbiamo anche una missione in Brasile, nel Maragnon, e una missione in Thailandia. E, come dire, il risultato del ricavato di questa mostra è proprio a favore delle missioni di progetti che vengono fatti per le nostre missioni. Il progetto di quest'anno è per creare dei pozzi nell'Africa, dell'Eritrea. L'idea di questa mostra è nata proprio come desiderio, perché la Chiesa è per sua natura una Chiesa missionaria. E quindi il desiderio è di contribuire anche noi, grazie all'opera del cuore buono delle persone che collaborano con noi e di quelle che ci portano il materiale, di poter aiutare le nostre missioni. Gli oggetti che ammirate provengono da privati, dalle case dei privati, e sono tutte cose, come dire, diciamo, un po' dismesse. Chi cambia casa, chi cambia vestiti, chi cambia quadri, ci porta qui il vario materiale che poi noi smistiamo. Naturalmente c'è anche del materiale che va in discarica, mentre c'è del materiale buono che noi rivendiamo a dei prezzi molto bassi, ma che ci aiutano a ricavare sempre qualcosa per la missione. Non va buttato via niente in qualche modo.